In questa brevissima guida andremo a vedere come effettuare il passaggio da Substance 3D Painter a Substance 3D Stager. Per quanto riguarda Painter possiamo pitturare tantissimi modelli e impostarli, ma non possiamo costruire delle scene 3D complete, quindi con luci, materiali, impostazioni di rendering e ambientazione. Possiamo prendere però il nostro modello sviluppato in 3D Painter e poi inviarlo direttamente a Stager. Quindi qui facciamo un rapido esempio, andiamo su file e facciamo open sample per aprire i file di esempio, vado a prendere appunto la classica mascotte di Substance 3D Painter che è MeetMath. A questo punto mi sposto sui materiali smart e cominciamo a inserire appunto questi tipologie di materiali che vanno proprio a creare degli effetti sull'intero oggetto appunto su cui stiamo lavorando. Molti di questi possiamo scaricarli anche da internet, abbiamo visto appunto in altre guide come fare e posso anche sovrapporre i vari effetti. Ok, quindi in questo caso una situazione di metallo consumato, vernice metallica consumata. Mettiamo anche per esempio un layer di sporco, quindi dirt. E poi andiamo anche a pitturare un pochino magari con un pennello, quindi attiviamo il pennello giusto per... Ok, qui siamo sulla base. Qui siamo sul corpo, body. Quindi anche qui vado a creare un nuovo layer, pennello e disegno. Ok, questo è semplicemente per andare a fare un rapido esempio in Painter per poi esportare tutto all'interno di Stager. Qui posso vedere l'intero oggetto così in questo modo, in 3D. Ok, quando ho terminato quindi in Painter, semplicemente devo andare su File, Send To, come vedete posso inviarlo sia a Photoshop sia a Substance 3D Stager. Questa è l'opzione più rapida per trasferire il nostro lavoro e continuare appunto in Stager. E poi abbiamo anche all'interno del pacchetto di Substance altri programmi, per esempio Modeler per creare proprio dei modelli 3D, Sampler per lavorare con la fotogrammetria, Designer per creare altri materiali con altri metodi, con i nodi. Ad ogni modo, in questo caso vedremo solo questa tipologia di passaggio, quindi da Painter a Stager. Quindi qui possiamo decidere se includere materiali non utilizzati, in questo caso non ci interessa, e se vogliamo generare delle mappe UV per il modello, ma in questo caso appunto anche non ci interessa perché già sono presenti nel modello. Quindi facciamo Importa, attendiamo qualche secondo ed ecco il nostro modello pronto per far parte appunto di una scena più complessa. Quindi qui all'interno di Stager posso cominciare per esempio a inserire altri oggetti, posso sfruttare le librerie come vedete per avere a disposizione tantissimi altri modelli già pronti che posso anche riesportare nuovamente in Painter. Quindi in questo caso andrò su File, Esporta, Scena e vado a utilizzare il formato USD. Decido se andare a esportare solo l'oggetto selezionato o l'intera scena e se includere appunto anche qui Materiali, Environment e altro. Torniamo adesso di nuovo in Painter e facciamo Nuovo. Selezioniamo File, in questo caso vado all'interno della cartella che ho creato appunto nell'esportazione da Stager, quindi Scene Stager. E qui posso scegliere, essendo comunque un file facente parte di Substance, ho anche qui delle impostazioni per quanto riguarda le telecamere, la risoluzione delle texture e via dicendo. Facciamo OK. Ok, vedete che in questo caso ho l'intera scena. Ovviamente l'intera scena però senza materiali che dovrò cominciare a creare qui all'interno di nuovo di Painter. Vedete che in questo caso tutto quanto è diviso, inclusi i nuovi oggetti che ho esportato. Voglio riprendere le texture. Posso andare su Importa Risorse, quindi File, Importa Risorse, Add. All'interno della cartella Stager troverete una scena 3D e poi anche una cartella chiamata Dependencies con all'interno le varie texture prese appunto dalla scena che dobbiamo appunto riapplicare. Diciamo che il passaggio più consueto è andare da Painter a Stager e non il contrario. Una volta che siamo quindi all'interno di Stager possiamo non solo lavorare con i materiali e i modelli 3D. Qui vedete abbiamo materiali che posso già cominciare a inserire semplicemente di nuovo cliccando e trascinando. Possiamo lavorare con le luci e con l'Environment e con le Texture. E poi abbiamo una serie di pulsanti e di parametri e di azioni che sono spiegate appunto all'interno del corso di Substance 3D appunto in una lezione dedicata nel modo specifico a Stager. Ovviamente Stager è anche ottimo per renderizzare le scene, quindi impostarle dal punto di vista appunto dei materiali, delle luci e dei modelli 3D e poi effettuare un rendering finale con motori di rendering in Rain. Quindi qui stiamo utilizzando adesso Ray Tracing, altrimenti abbiamo il motore di rendering real time, sta semplicemente calcolando la scena, ma possiamo anche farlo direttamente qui nella vista attivando lo switch Ray Tracing. A questo punto ci fermiamo qui per questa guida, se vi è piaciuta iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su altre guide, oppure abbonatevi se volete anche supportarci e ringraziarci. E andate a vedere anche gli altri video dedicati a Substance 3D e tutto il pacchetto di programmi che fanno parte appunto di Substance. Ci fermiamo e ci vediamo nella prossima guida. Grazie. Grazie.